Siamo a Varigotti, questo è il borgo Saraceno, bellissimo da visitare, piccolino, ma molto carino. Adesso ci arrampicchiamo su di lì e facciamo tutto, speriamo di non perderci di nuovo, facciamo tutto il sentiero del pellegrino. E fa fresco effettivamente, ci conviene iniziare a camminare e ci scaldiamo un po'. Qui ci sono anche gli struzzi in spiaggia. Il sentiero parte dal centro di Varigotti attraversando l'Aurelia, si prende il mico della cava e si sale qua in mezzo ai muretti. Questo ciottolato è carino, dopo poco c'è il bivio per andare alla chiesetta di San Lorenzo. Il mausoleo dell'Australiano. Il passaggio in mezzo alla roccia. Qui conviene avere degli scarponcini, dell'escursione, non delle semplici scarpe da ginnastica. Comunque lassù qui dobbiamo arrivare, giusto? Sì, lassù, su quella cima. Un passaggio profumatissimo in mezzo al rosmarino selvatico. Gli scarponi un po' lisci. Il sentiero si fa un po' più impervio. Questo è uno splendido punto panoramico. Dopo il punto panoramico, la Torre delle Streghe. La Torre delle Streghe. Questa dovrebbe essere la zona semaforo. Qui c'è un vecchio acquedotto. Era una postazione di artiglieria questa. Questo forse è il punto più alto. La Torre delle Streghe. 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 Siamo arrivati alla Grotta dei Calzari. La Torre delle Streghe. Ne vale la pena. È bella. Proprio bella. Si ritorna sui propri passi e si prosegue. Pernoli. Sempre su questa stradina. Circa 30 minuti. Sì. 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 E' piaciuto questo posto? No. I passaggi sono veramente carini. Mi piacciono questi muretti. E queste sono le rovine della chiesa di Santa Margherita. Sì. 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 E dopo aver mangiato un boccone qui alla chiesa di Santa Margherita riprendiamo il cammino. Siamo vicini a Noli oramai. Sì. 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 Ecco la chiesetta. Anche questa è diroccata naturalmente. Sì. 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 Grazie a tutti. Siamo quasi arrivati a Noli, ultimo pezzo, siamo già in mezz'ora alle case, ormai ci siamo, ecco qua. Ipip, hurra! Ipip, hurra! Tornare in fulma perché rifare di nuovo tutto il percorso a piedi non è pensabile. E tornare sull'Aurelia è peggio ancora perché non ci sono passaggi pedonali, sei in mezzo alla strada. Tornare in fulma perché rifare di nuovo tutto il percorso a piedi non è pensabile. Tornare in fulma perché rifare di nuovo tutto il percorso a piedi non è pensabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.